e ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo nuovo video oggi come da titolo vi farò vedere un po' un video un po' particolare dove in pratica vado a testare per la prima volta la carta revolut che vi ho fatto vedere in qualche video scorso appunto sto iniziando utilizzarla e visto che comunque ho notato che hanno fatto uscire una bella una bella promozione ovvero tramite il link che c'è quella descrizione è un link invita un amico quindi non è un video sponsorizzato vi avviso già video che ho voluto farvi io visto che appunto c'è questa promozione per chi invita un amico allora in pratica ricevo 15 euro e voi se deciderete di prendere questa carta di utilizzare questa carta avrete un bonus anche voi di 15 euro quindi se volete fatelo se non volete non fatelo io spero che il video vi possa interessare video è ambientato sul lago di comu quindi ragazzi spero che mi interessi e a dopo e ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo nuovo video scusate se parlo piano ma sono in albergo non vorrei disturbare le altre persone comunque qua sono a cernobbio e come da titolo oggi volevo un po andare a provare la carta la carta revolute che ho già provato e ho già pagato per la prima volta su booking e devo dire che è andata benissimo per la ricarica in pratica ho ricaricato l'art l'altra carta ricaricabile che ho legata al conto corrente e li ho trasferiti direttamente sul conto revolute non costa nulla davvero molto facile voi basta che legate la vostra carta ricabile o carta di credito legata al vostro conto corrente bancario a carta revolute la cosa è molto veloce e semplice quindi vi dicevo sono qua cernobbio sono le sette e mezzo di mattina adesso andrò a far colazione guardate che vista che spettacolo che risveglio fantastico ragazzi buona 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 ecco fatto un piccolo giro col traghetto pagato con con la carta di revolut vi ricordo che il primo acquisto che fate con la carta lo dovete appunto passare col chip e di citare il codice poi potete attivare i pagamenti con tarles comunque adesso piove e ci vediamo più tardi per vedere se paga anche contatless comunque è fantastica questa carta di credito consigliata link in descrizione 15 euro per voi 15 euro per me ecco ragazzi il video è stato abbastanza breve comunque a livello di applicazione e tutto devo dire che la carta revolut a me mi sta soddisfacendo ecco l'ho anche provata anche se nel video non si vede l'ho anche provata col contatless tutto ok e niente l'unica funzione che mi manca diciamo sono i cambi valuta appena magari andrò all'estero farò anche questa prova dei cambi valuta e vedere se si riesce bene a pagare anche all'estero comunque ragazzi io vi ringrazio di aver seguito questo video vi ricordo il link in descrizione invita un amico per la carta revolut e alla prossima ciao ciao